Nuovo video, uscirà tutti i venerdì al posto dell'Apre Vanilla che uscirà una sola volta la settimana di martedì in questo momento e quest'oggi facciamo un nascondino veramente strano siamo sullo Yachty GTA V, ci possiamo trasformare in tutti questi fantastici youtuber che devo dire che sono proprio i più bravi al mondo assolutamente, non c'è ombra di dubbio e come funziona? Uno cerca, gli altri tre ovviamente si nascondono ma non vince se stai nascosto per tutto il tempo vince se trova i soldi che saranno nascosti da chi cerca in giro per la mappa e sarà una competizione anche tra quelli che si nascondono perché quello che ne trova di più vince tra tutti gli altri molto semplice, c'è un'altra particolarità ci saranno sette soldi veri e tre falsi quindi qualcuno potrebbe prendere i soldi e pensare di aver fatto un punto invece scoprirà che quel punto non vale perché i soldi sono finti ho detto tutto, voglio soltanto fare una battuta ovvero dire che in questo momento sono una brutta persona hai la skin più bella di tutto il gioco la peggiore di tutto il gioco no, 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 non è vero invece chi è me? è Marco e io sono Gabby perché adesso stiamo confondendo tutti e lo devo dire è Marci e Marci ma chi è Stef? è Marci e Marci? Stef e Marco? sì non picchiamo mi hai lasciato a metà cuore a mezzo cuore ma come? sai cosa fa Mark? Stef non l'ha detto ma siamo tutti quanti a un cuore ragazzi io sto pubblicizzando il mio libro se qualcuno è interessato ma dai Stef comprate Timeport in tutte le librerie d'Italia io non ho parole Stef che pubblicizza il suo libro con la mia scuola esatto non ha senso ragazzi non ha senso voglio metà degli introiti adesso ok alla fine tocca a me cercare quindi devo piazzare dieci soldi e direi di piazzarne abbastanza palesi allora io direi di farne uno qua e mettiamo questo poi metto questo faccio così allora si arrabbieranno lo so già che si arrabbieranno ma non è un problema perché è la cosa più geniale che io abbia mai fatto poi ne vado a mettere uno anche qua e adesso posso iniziare a fare le cose serie vediamo un po' dove potrei andare a piazzarli magari qui non me lo fa piazzare peccato qua non è male dai ci può stare però dato che è abbastanza semplice mettiamo uno di questi poi vediamo un po' magari ne mettiamo uno qua sempre di questi poi vediamo potrei andare qui a mettere in questo punto ok poi andiamo a mettere così questo andiamo a mettere qui quest'altro vediamo come potrei piazzarlo perché qua si vede abbastanza effettivamente magari lo mettiamo perché qui non posso lo mettiamo qua bello poi vediamo un pochino magari ne piazziamo tipo uno qui in questo modo per distrarre poi vediamo un po' verso che altre parti potrei andare devo essere strategico perché se voglio vincere e avere il tempo di trovarli devono avere tantissima difficoltà ma proprio tanta tanta mmm non è male qua non è male per niente facciamo tipo qui e lo piazziamo e siamo a 4 ne mancano altri 3 secondo me qua lo beccano con difficoltà lo mettiamo magari facciamo così e lo mettiamo qui così non me lo fai mettere accidenti perché c'è la porta allora lo mettiamo qua così e siamo a 5 poi andiamo tutto su che è una zona interessante e ne piazziamo allora uno qui messo tipo vediamo secondo me ci sta in questo modo e siamo a 6 ne manca soltanto uno che direi di piazzare in questo modo e siamo a 7 ok ho fatto vai potete andare a nascondervi muovetevi troverete come sempre 7 solliveri 3 finti e qualche sorpresina quella io ne ho appena visto una e non voglio commentare Steph non vi è piaciuta vabbè io devo dire che mi è piaciuta perché sono di parte ragazzi ma ne hai messo 2 Steph adesso per esagerato 2 3 ne hai messi almeno 3 questo qui è matto ragazzi cioè è diventata una libreria libreria timeport in vendita sullo yacht di GTA ragazzi io vi sto già cercando perfetto si si vieni pure ah stai già cercando eh si ecco dovevo aspettare 2 ore beh se potevi si possibilmente ma se io prendo timeport ho un premio no devi comprare dal link in descrizione ma non c'è link in descrizione ah ok grazie Marci grazie allora vediamo un po' forse si non lo so c'è il link in descrizione Ferre certo che c'è maledetta io ero impegnata e zitta perché ho appena trovato dei soldi ma dovete dirlo quando hai trovato dei soldi e li ho trovati adesso in questo momento come hai finito di parlare te l'ho detto quindi Ferre è 1 anche io sono 1 ok ma come siete 1 entrambi io a 0 sto ok male Marci male e nessuno ha trovato quelli finti io per ora niente finti ragazzi bravi ripeto c'è scritto sempre soldi saranno soldi veri complimenti ok cioè sono molto forti cioè li ho nascosti abbastanza bene quelli veri ah si quindi ci sta andando bene si 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 suppongo molto bene direi si a sto punto allora sto cercando di inquadrare i movimenti che state facendo ok allora qua va bene io dico Stef ma dove li hai piazzati i soldi no li hai piazzati bene ne ho piazzati bene io ragazzi ne ho trovato altri difficilissimo come l'hai trovato eh non lo so l'ho osservato ci siamo guardati in realtà è assurda sta cosa perché ero proprio fermo 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 sei comunque morto giusto povero marci ma guarda dove li ha messi no ragazzi peggio di me è da bandire pure Stef si 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 peggio di te è possibile allora quindi siete uno a uno per adesso eh si io ho trovato un soldo finto devo essere onesto ho trovato un soldo finto ah quindi uno a zero per Fede è come uno a zero cioè io ho trovato uno vero e anche lui ne ha uno vero no ha detto che ne ha uno finto due finti due finti vabbè ma perché quelli finti li ho messi a prova di bimbo eh si tu sei proprio guarda cattivo eh si è proprio il bait beh alla fine è quello l'obiettivo no in realtà non è vero ragazzi è stato abbastanza bravo oh ne ho trovato un altro finto ok no è stato è stato abbastanza bravo grazie eh c'è un problema ti sei chiuso ovvero dai Stef come hai fatto no 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 aspetta come hai fatto a non morire allora ho mezzo cuore è impossibile non mi hai stasciottato come hai fatto a non killare one shot Fede il problema c'è Marco no no niente ho risolto dopo ve lo spiego da vabbè ma c'è la mia arma fa il male delle patatine eh sì è una patatina finta ha un cuore e non l'uccida vabbè esatto comunque non c'è più Stef ti posso posso dirti una cosa Stef sei stato abbastanza clemente su alcuni ma in alcuni sei stato un pochino più cattivo delle precedenti eh vabbè però scusa eh no ce ne sono un paio che i ragazzi sono insane però sono le ali è vero? sì sì sono insane cioè però sono giuste non è non mi rogliamo vabbè Stef lo sappiamo tutti che ero in fame non ci si poteva aspettare di meno guarda che non vince nessuno se vince chi cerca esatto è vero è vero è vero quindi ho vintovi tutti o avete perso e basta o siamo fregati allora e me devo dire che è difficile vincere allora allora Marco devi credere in te stesso e nelle tue possibilità però ti dico subito che secondo me hai perso perché sei scarso grazie Marci però devi credere lo stesso in te è importante mi è piaciuta comunque l'ottimismo che gli hai trasmesso va bene va bene no ma ce n'è uno ragazzi ce n'è uno che è veramente insane io non li ho trovati ragazzi neanche in spectate vi giuro che non li trovo no no Fere Fere ce n'è uno che è veramente una cattiveria così vabbè però devi farmi sentire in colpa sei catastrofico così cioè io l'ho preso come gioco per famiglie Fere ti impati da me Fere ok guarda qua stiamo facendo il melodramma no Marci comunque tu sei veramente no vabbè ma questo no 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 credimi questo Marco è insane ma dai ma chi lo vede Steph nessuno allora io voglio dare un consiglio a Marci guarda in alto fine i soffitti sì sì ma guarda immaginavo che ne avessero nascosti tanti un soffitto guarda in alto ma il più difficile che ho messo non è in alto ragazzi pensavo parlaste di quello voi quindi il più difficile che ho messo Marci non l'ha trovato no l'ho visto lo trovi se guardi in alto non posso dire troppo perché sono qui dai ce n'è uno che si vede perché posso dire posso dare un indizio a Marco sì sì vai vai perché è vicino ad una finestra ok quello intendi tu ma non penso vabbè tanto sono indizi talmente generici ma più che altro ma Mark in questo tutto questo tempo si sta muovendo è fermo io vado a vedere dov'è vediamo ma in realtà Marco sta correndo però vabbè oh ti giuro stanno avanti e indietro andando anche in punti alti si sta correndo confermo è perché siete sempre in posizioni diverse secondo me eh mannaggia lui mannaggia no va bene no Mark tutti assieme un applauso no l'ho visto lanciarsi complimenti qual'era quello secondo te impossibile Marci allora tipati da me quando te lo dico ok sono curiosa a questo punto ma scusate ma dove cavolo li avete cacciati ho sbagliato il comando ma come ho fatto allora complimenti Mark complimenti grazie comunque erano tratti due veri due fake no no Steph è qua dentro non è che tu ti ricordi ah ma ma no ma è più difficile l'altro ma dai ma dai ma questo no Mark lascia stare erano impossibili ma questo sì sì noi diciamo di questa ma sei nato tu ma lo sei in dove qui sotto tutto giù ci sei messo alto tutto giù l'ho trovato io quello quale te l'ho detto dov'è quello del vetro qua quello lì che era qua sopra quale ragazzi dove siete non mi vedo non mi vedo allora creative qua guardami io ce n'era uno qua in alto sì quello era per i bambini poi questo l'altro Steph qua Steph qua dov'è qui quello qua sì bravi vi state vantando entrambi e quello che stava qua sotto chi l'ha visto mio padre io no questo qua sotto raga e vabbè ma come lo pigliate adesso ve lo preparo io i miei erano peggio scusatemi il tuo era a parare punto e quello di Mark c'era a parare quello di Steph è stato a giocare molto d'astuzia ma adesso no no giocare male basta ma che cosa giocare male allora tolgo tutto e tocca a Mark allora vi siete morfati amici sì signor capitano mi raccomando fate i bravi anche perché qualcuno qua è già passato e ho visto un Marci correre allora ho visto un Marci correre qua in giro è impazzito questo comunque è cattivissimo pensai di essere furbo c'è un Marci in giro che non ci ha lasciato non ci ha lasciato neanche il tempo di nasconderci come hai fatto tu Steph tu sei stato più onesto sì ma perché lui porca miseria Mark guarda ci siamo guardati per 5 secondi e stavo cercando di ingannarlo Fere ma avevi la testa inchinata no ragazzi ho visto Marco che ha preso l'anno no io ero subito di stare guardando in alto Marco stava volando comunque ragazzi non stava volando ah anzi devo metterli in creativa grazie che me l'hai ricordato Marci che brutta persona guarda eh sì sì sono proprio una brutta persona intanto Fere l'ho già catturata appena non hai neanche lasciato il tempo Fere infatti stavo ancora correndo ho visto un De Marca che mi correva davanti alla faccia cosa faccio non lasci lì non è vero che stavo scappando da te e poi hai ucciso te stesso pensa che cattivo che sei sì non ha scrupoli per nessuno neanche per se stesso pensa a te allora io dei soldi li ho trovati comunque ah sì anch'io anch'io sì 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 veri veri ok ok va bene va bene pensavo fossero introvabili vero? no 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 allora ragazzi sapete una cosa uno non lo troverete mai ma perché sono stato cattivo quanto voi se non di più quindi guarda qua farò una strage secondo me vincerò io fidatevi di me farai una strage addirittura? sì sì io non sono convinto di questa cosa ah sì non sei convinto? no no io penso che invece io vi osservo tanto non posso fare nient'altro vediamo da chi vado ah ma qua ho visto un Gabby ma chi è questo Gabby? vuole un libro? ecco no dai ma ma cosa ci facevi lì? topo di fogna che ci sono solo io? schifoso traiardone allora ma scusami un attimo e tu mi apri la porta così e poi sono scappato perché mica ti avevo visto lì di fronte ok ok va bene va bene allora vado alla ricerca quante robe vi hai trovato Steffo? uno e uno un vinto è un soldo? un vinto è un vero vuol dire che qualcuno è passato da di qua? mmm Sherlock Holmes vediamo eh che ansia vediamo eh sì sì attenzione il mio radar sì dice che questo marci qua ha la testa inclinata verso l'alto e cammina con la testa inclinata verso l'alto ma è fermo io proverei a dare un colpo ma io ho giocato a tanti nascondini Feri nella mia vita e questo qua mi dice che è un marci no io lo stavo osservando all'inizio posso dire una cosa? sì la dita che la vogliamo dire tutti allora no questa cosa io adesso devo essere sincero allora io ho lasciato un minuto per andare a farvi andare via stef ha lasciato più di un minuto tu sei parito diretto e ucciso stef e Feri in mezzo di un minuto ma scusa no io non sono d'accordo io l'ho beccata subito perché mi hai passato davanti è certo ma perché non ci hai lasciato il tempo ma come non mi hai lasciato il tempo? no allora guardate io vi dico magari può aver vinto il round ma nella vita ha perso ma no io non so se siete d'accordo voi sei avuto di d'accordo sì no io sarei d'accordo nel continuare di lasciarci una seconda possibilità no no io non la voglio perché poi non sarebbe una vera vittoria quindi non accetto un round del genere quello è vero allora facciamo al prossimo video rivincita va bene? ok sì no no io sono d'accordo rivincita al prossimo video va bene ci fermiamo così per questo video in nascondino non è andato bene devo essere sincero speravo di far di meglio però comunque in una mappa come lo yacht così stretta devo dire che è difficile però è stato divertente è stato divertente? sì 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 la prossima settimana probabilmente faremo un altro nascondino se vi piace e nel caso cambieremo mappa per renderlo più interessante e più fattibile per chi si nasconde perché effettivamente nessuno ci è andato nemmeno vicino quindi evidentemente è troppo difficile qua sotto e qua sempre come altri video iscrivetevi al canale campbellina e ci vediamo al prossimo video ciao ciao